allora amici ora che siamo già ad ottobre sono finite tutte le vacanze ma quanti sono stati i libri o gli ebook che avete letto durante le vostre vacanze quanti non sento quanti nessuno non avete letto neanche un libro e neanche un ebook durante le vacanze ho capito ho capito amico mio tu non hai letto niente però hai scritto hai scritto quel manoscritto che mi ha inviato la scorsa settimana e che è un groviglio di parole un'assenza coordinata di congiuntivi una cosa abbastanza disarticolata ma perché invece di scrivere tu un libro tu che oggettivamente non sai scrivere non leggi non leggi tanti libri forse dopo averne letti alcuni saprai un po articolare meglio le tue parole grazie a tutti